Il paradiso si chiama Serie A. La lunga cavalcata del Frosinone trova la gloria in un 16 di maggio che rimarrà scolpito nella storia. Il 3-1 con cui i canarini hanno battuto il crotone proietta i giallazzurri nell'olimpo del calcio. Ma la prodo in Serie A del Frosinone arriva da lontano, in primis grazie ad una società solida che negli anni ha saputo dare stabilità e concretezza a tutto l'ambiente. Per questo motivo il primo applauso va al presidente Maurizio Stirpe. Ma è stata la vittoria di un gruppo il cui timoniere Roberto Stellone ha meriti eccezionali. Un mister che si è fatto da solo, che ha portato in Serie A alcuni dei suoi ragazzi della Berretti, la cantera gialloblu. Un mister che sa allenare la rosa e non ha solamente 11 giocatori. Questa vittoria è la vittoria del gruppo partito dalla Lega Pro e che nessuno in estate pronosticava questi livelli nel ritiro di San Donato, men che meno. La svolta, a nostro parere, è arrivata dopo lo scempio del signor Aureliano al termine della gara con Lentella. Lì la squadra ha innestato la quinta, non sbagliando più nulla. I canarini trascinati da Gucer, Daniel Ciofani, Dionisi ed il Ciociaro Gori, solo per citarne alcuni, hanno portato la Ciociaria in Serie A. Ma una squadra senza il suo cuore pulsante è nulla e a Frosinone si chiama Curva Nord. Tifosi eccezionali dalla prima all'ultima giornata, creando un idilio fantastico con la squadra. Ed ora il Frosinone è in Serie A.